La porti un bacione a Firenze, che l'è la mia città che in cuore ho sempre... Ma che c'è a zecca in Napoli con Firenze. C'è a zecca, perché il toscanissimo Maurizio Sarri è nato a Napoli e l'ha sempre avuta nel cuore, tanto che da bambino litigavo con i suoi amichetti in Toscana perché era l'unico a volerti fare Napoli. E sapevate che mentre i suoi attuali colleghi Conte, Zidane, Ancelotti, Guardiola facevano la gavetta vincendo Coppe Scudetti, Maurizio Sarri era uno stimatissimo dirigente bancario. Sapevate poi perché veniva chiamato Mr. 33 oppure Diabolic? Troverete questo e tanto altro in Diabolic Sarri, l'e-book della biografia di Maurizio Sarri scaricabile in ogni store online e comodamente leggibile sul vostro smartphone, tablet o computer. Buona lettura! Grazie a tutti!